Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Andamarina e oggi faremo un unboxing e questo qui è l'animale di minecraft, che era una cosa che vi avevo detto nei video di nuovo unboxing che non sapevo spiegare bene cos'era, comunque sono l'animale di minecraft questo qui e stiamo ad aprire allora si apre guardate c'è un sketch c'è l'ina fatta di aprire c'è questo che è un piccolo scenario diciamo, devi mettere gli animali e qui ci sono gli animali allora, c'è la gallina l'accelot il lupo il maiale il maiale l'accelot non si vedono tutti molto bene la pepera e infine la mucca non si vedono molto bene tutti i mebe e facciamo un po' per vedere tutti il maiale il maiale il maiale il maiale bene questo è stato l'unboxing del maiale il maiale il maiale il maiale spero vi sia piaciuto ciao e al prossimo video ciao 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 ciao